Una notte tranquilla e questo è un bene. Ma le leggi della statistica non mentono. Se nell'Adriatico Meridionale viene sbarcato uno squalo verdesca ogni sette pesci spada, questo significa che è solo questione di tempo. La Lenza è provvista di centinaia di esche che scenderanno alla profondità di circa 30 metri. Obiettivo della pesca è il pregiato pesce spada. Il problema? Le nostre esche faranno gola anche ad un altro abitante dei mari, lo squalo. Un grosso esemplare di verdesca o blue shark si muove sotto la nostra imbarcazione. Immutati nel corso di milioni di anni, gli squali non sono cambiati praticamente in nulla, dato che l'evoluzione li aveva già resi predatori perfetti. Ma forse non abbastanza da distinguere un pesce da un'esca. Alla stuck. Alla prossima.